Noi siamo supportati in questa avventura da tanti amici, da tanti amici sostenitori. Ne abbiamo molti che ci seguono anche dallo scorso anno, altri che incontriamo nel nostro cammino. Quindi io volevo ringraziare la Steam di Cisterna, Villa Patrizia in Via del Bosco a Borgo Bainziz a Latina, la Cassa Rurale dall'Artigiana dell'Agro Pontino, l'ingrosso dell'ortofrutticola Bianchi Sisto a Fondi e ancora il centro dontoiatrico Le Torri, ora anche al centro commerciale Panorama a Latina, Rocco Bimbi di Latina, a Sezze Bigas Viaggi al centro commerciale Le Fontane, la C&B Costruzioni Elettroniche di Domenico Basset a Latina sulla strada regionale Pontina. E poi tanti amici nuovi che abbiamo incontrato qui stasera a Ceccano, la farmacia Querchi, la gioielleria Il Diadema e Massimiliano Masi e l'Alimentari Malizia, a Veroli la ditta Andrea Santoro, a Ferentino l'Ottica di Frioni Luca, il Trasporti Schietrona e il Ristoro Yolanda, nonché Mister Berry SRL, ancora a Frosinone il centro dontoiatrico Le Torri. Un grazie speciale va a chi ha pensato agli omaggi floreali e ai fiori dell'allestimento del palco che sono la macelleria, norceneria, gastronomia di Davide Cecconi e il ristorante Brigadon, nonché le trivellazioni Pozzi ed il Paoli di Ceccano. Un grazie speciale anche all'amministrazione comunale perché ci ha permesso di stare qui stasera.